E' stata presentata al CERMIG la 28esima edizione del Salone del Libro di Torino che quest'anno si svolgerà dal 14 al 18 maggio. Ospiti nell'edizione 2015, dedicata alle meraviglie d'Italia, la Germania e il Lazio. Anche il Consiglio regionale sarà presente, con un proprio spazio espositivo e un ciclo di iniziative dedicate alle sue pubblicazioni più recenti.